L'autista Chiaro a tutto a casa perché c'è molto. E c'è un paracolio più pletero. ...popolto a 10 giorni a ciò. Questa è quella? Questa è la striscia. 450 euro. Tutti a 10 giorni a accetta, chi ce l'ha di scritto. Purtroppo chi si è accettato? Siamo tutti a così, fanno. Non si possono chiedere tutte queste volte. Se no e di nessuno è il 20, sono le nostre 50, 70 euro. Grazie a tutti